E' stato un secondo tempo di riscossa, ci abbiamo provato fino alla fine, forse c'è anche più di un episodio dubbio, però il risultato non ci sorride. Sì esatto, siamo entrati in campo cercando di cambiare un po' l'atteggiamento rispetto al primo tempo, in cui eravamo mancati un po' sotto quell'aspetto e ci abbiamo provato in tutti i modi e qualche episodio purtroppo ci è andato a sfavore e alla fine siamo finiti sotto comunque. Proprio se c'è qualcosa da salvare in vista delle prossime due partite in casa e la voglia che si è messa nel secondo tempo, perché non era facile comunque ripartire dopo i due gol subiti. Esatto, è sicuramente un punto da cui ripartire per le gare successive, perché ci servirà sia nell'infrasettimana di mercoledì che poi nella partita in casa di domenica e cercheremo però sicuramente di metterlo da subito e non aspettare 45 minuti.